La protesta continua a Kona, profughi in strada e blocchi stradali. Vaporetti in tilt dopo la bufera di vento in laguna si scatena quella sull'assessore Boraso. Gioco d'azzardo online, mazzi operazione della finanza nei guai, imprenditore veneziano. Albero secolare si abbatte su una casa a Canareggio, famiglia evacuata. Telegiornale di Venezia, buonasera e ben ritrovati. In apertura ancora la protesta a Kona, perché appunto continuano i profughi in strada con blocchi stradali. Vediamo. La bocola è presa! La bocola è presa! La bocola è presa! C'è vento e fa freddo lungo raggine del Brent in questo lembo di terra padovana a Santa Margherita di Codevigo. Sono oltre 100 i migranti partiti 24 ore fa dalla base di Conetta in marcia, appuntano a Venezia. A piedi hanno percorso una ventina di chilometri. La notte erano passati in un parcheggio, alcuni in pullman, ma non intendono muoversi. Ci hanno provato a parlare con loro Carlo Boffi, prefetto di Venezia, Danilo Gagliardi, il questore della città, fumata nera. Moussa arriva dalla costa d'Avorio e nella ex base da sei mesi. Dormite sempre in tenda, tutti in tenda. Adesso voi deve sapere che è troppo freddo, non posso dormire. Gossu arriva dal Mali. Hanno offerto un incontro a breve, cinque giorni di tempo, perfetto questore, che non chiudono le porte ma sono realisti. Tutto si può fare, ma dipende dalla disponibilità di strutture alloggiative, le cooperative che possano gestire i richiedenti asilo fondamentalmente ci possono essere. Il problema maggiore è il ripienimento di strutture alloggiative, cosa che non è facilissima. A sostegno dei migranti, il sindacato USB, che si è improvvisato portavoce dei profughi in marcia, nessuna intenzione di mollare. Cambiamo argomento, andiamo a Venezia. Vaporetti in tilt dopo la bufera di vento in laguna si scatena, quella sull'assessore Boraso. Sentiamo. Le recenti difficoltà incontrate nei rì della città storica, con i vaporetti che faticavano ad attraccare per le forti raffiche di vento, rilanciano il tema della sicurezza della navigazione, già oggetto dello sciopero dello scorso venerdì, trasformatosi in una caporetto per la CTV. Dai sindacati si torna ad accusare aziende e amministrazione comunale di non aver fatto nulla per affrontare in modo serio il problema. Ma l'assessore alla mobilità Renato Boraso respinge le accuse al mittente. Ci chiede di viaggiare con la nebbia, allora quando c'è la nebbia noi sospendiamo i servizi per motivi di sicurezza, veniamo criticati perché si sospendono i servizi, poi gli stessi soggetti ci chiedono invece di poter anche migliorare la sicurezza perché non vorrebbero correre, cioè veramente c'è qualcosa che non funziona in generale. Sulla navigazione abbiamo in piedi diversi tavoli e stiamo trovando nuove soluzioni che presto verranno presentate alla città, a Sicura Boraso, certo non si può continuare a chiedere meno traffico e meno moto ondoso e contemporaneamente più mezzi che si muovono per la città. Qualcuno ci dice che abbiamo tagliato le corse e ne vogliono di più, vorrei ricordare che invece la procura ha cercato di tagliare le corse in centro storico dopo la morte di quel turista tedesco, c'è un po' di confusione sinceramente, qualcuno a volte parla senza a volte usare il cervello. Parliamo dei medici di famiglia, vi ricordo infatti che al tema è dedicato il Tg, linea aperta di questa settimana, come sempre diteci la vostra con un sms oppure con un email, più risparmi e più servizi i medici devono essere dipendenti dell'ULS, attendiamo naturalmente le vostre opinioni. E ora proseguiamo con la cronaca, parliamo di gioco d'azzardo e truffa online, è un imprenditore veneziano di 50 anni, il dominus dell'organizzazione criminale sgominata dalla Guardia di Finanza di Firenze. Era a Venezia il cuore pulsante dell'organizzazione criminale dedita al gioco d'azzardo online, sgominata alle prime ore dell'alba dalla Guardia di Finanza di Firenze. In terraferma è stato arrestato un imprenditore veneziano di 50 anni, socio di un'azienda maltese che mette a disposizione piattaforme per il gioco online. L'imprenditore veneziano curava sia la parte riconosciuta dai monopoli che quella parallela clandestina collegata a siti condominio.com appoggiati a server ubicati a Malta. Per gestire il mercato parallelo il cinquantenne si avvaleva di un tecnico informatico suo coetaneo, residente in un comune della cintura urbana del capoluogo lagunare, raggiunto da medesima ordinanza di custodia cautelare. L'organizzazione criminale è stata scoperta dalle fiamme gialle nell'operazione denominata Doppio Jack che ha portato sette arresti per tutti l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo del gioco d'azzardo e la truffa online. Le vincite del mercato clandestino non venivano rendicontate al fisco italiano e le giocate viaggiavano sulla piattaforma illegale finendo in conti correnti a Malta. Secondo una stima sul giro d'affari di tre delle 24 sale gioche clandestine camuffate da enti associativi non commerciali formalmente non aventi scopo di lucro, le giocate mensili arrivavano a oltre 10 milioni di euro per una evasione stimata in circa 6 milioni di euro. Complessivamente gli indagati sono 40 fra Veneto, Lazio e Toscana e una società, mentre i beni sequestrati ammontano oltre 8 milioni di euro. L'indagine è partita due anni fa da un controllo della Guardia di Finanza di Empoli a un'associazione sportiva dilentantistica della provincia di Firenze, dove era stata allestita una sala da gioco sconosciuta ai monopoli di Stato. Cambiamo argomento, un albero secolare si abbatte su una casa a canareggio famiglia evacuata, vediamo. Venezia cade a pezzi e il problema non riguarda solo le fondamenta che si sgretolano e i barbacani che piovono dal cielo. Alle 5 di mattina, senza preavviso, uno degli alberi secolari di Parco Savorniana a Canareggio è crollato addosso a un'abitazione, danneggiandola gravemente. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre per mettere in sicurezza la casa, evacuando le due famiglie che ci abitano. Poi è cominciata la verifica dei danni che hanno interessato il perimetro esterno. Parte di un muro è caduto, un po' giolo e alcuni serramenti sono stati demoliti e la linea elettrica risulta interrotta. Lo sradicamento dell'albero potrebbe essere attribuito all'indebolimento delle radici dopo le forti raffiche di vento dei giorni scorsi. Truffa delle false riviste delle forze dell'ordine, i carabinieri di Venezia denunciano 4 persone. Chiedevano illecitamente l'abbonamento a riviste delle forze dell'ordine le 4 persone denunciate dai carabinieri di Venezia per truffa, aggravata, frode in commercio, violazione dei diritti di proprietà industriale delle forze armate. I malfattori contattavano persone di ogni età ma prediligevano gli anziani e nel caso specifico anche le suore del monastero delle Clarisse della Giudecca. L'indagine è nata lo scorso settembre dalla segnalazione di un pensionato veneziano. I carabinieri hanno teso la consegna del pacco e intuito subito che si trattava di una truffa. L'arma dei carabinieri invita chiunque sia stato coinvolto in casi analoghi a segnalarlo immediatamente al 112. E dalla telegiornale di Venezia è tutto, arrivederci. I carabinieri invita chiunque sia stato coinvolto in casi analoghi a segnalare le forze dell'ordine le forze dell'ordine le forze dell'ordine le forze.